Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe Siamo ancora su Vagrant Storico, la prima delle puntate extra dove vi faccio vedere che innanzitutto ho creato il precursore dell'arma finale ovvero la Nodachi Nodachi che è appunto classe arma leggendaria quindi già siamo in quella fase delle armi leggendarie adesso mi serve soltanto la Rune Blade che si ottiene appunto da due Nodachi però i Nagane, tenterò di farle magari anche in Damasco ma in Damasco voglio un'altra arma ci troviamo in questo momento come potete vedere al dormitorio del soldato ovvero nel Torrione se vi ricordate bene una volta noi siamo entrati qua e vi ho detto non era ancora arrivato il momento di andare verso la Vergine di Ferro ecco, adesso che abbiamo finito il gioco facciamo una piccola parte esplorativa, pre-esplorativa del gioco per poi ritornare ad affrontare il boss finale una volta fatto tutto questo ambaradan di cose che si possono fare prima del primo completamento e poi successivamente col secondo completamento del gioco o per meglio dire a partire dal secondo completamento del gioco così potranno sbloccare delle altre cose che ovviamente otterremo più avanti comunque, incominciamo ad entrare qui dato che adesso possiamo entrare nella sezione della Vergine S1 se avete le armi come le ho io non dovreste avere grosse difficoltà perché comunque i mostri sono decisamente deboli come potete vedere già con un colpo l'ho fatto fuori però non è neanche quello il discorso è che comunque vedete già con due chain di colpi abbastanza deboli si riesce a buttare giù perché giustamente questa è ancora la sezione S1 e quindi è abbastanza semplice qui abbiamo il sigillo TEA che lo avevamo ottenuto in precedenza e che quindi ci dà la possibilità di di andare avanti qui c'è una piccola presentazione la porta è stata chiusa ma questi non sono boss quindi non vi preoccupate vedete mostri per adesso molto deboli che però possono droppare delle delle armi che a me sinceramente per il momento non interessano dato che comunque andrò a farmare le catane visto che io voglio utilizzare ecco sigillo Calmia che questa è interessante e Grimorio Venin questi sono tutti zombie o comunque mostri che come potete vedere possono droppare delle armi ma niente di eccezionale al momento anche perché potremmo droppare sicuramente altra roba qui già c'è il primo diciamo il primo bivio il trivio chiamiamolo come vogliamo andiamo al centro andiamo dritti successivamente dobbiamo attraversare la sezione così sfruttando il movimento della pedana questi scheletri danno ad esempio roba più interessante a me non capita che possano dare roba più interessante quindi delle spade o delle lance particolari non ho bisogno di fare chissà quali chain perché tanto alla fine ci crepano male il mio obiettivo al momento è affrontare esatto la viverna allora dato che comunque devo aumentare un attimo l'equipaggiamento eh vabbè ho sbagliato facciamo una potenziamoci un attimo per aumentare magari le hit cioè per aumentare la possibilità di colpire la viverna questa è una viverna la grande viverna che dropperà un oggetto interessantissimo quindi già ve lo dico da ora bene approfittiamone non è fortissima per cui ovviamente ho fatto già troppe chain per cui abbassiamo il risk è troppo veloce però come potete vedere i danni non ne subiamo completamente ok c'è crepata e guardate un po' che cosa droppa la chiave dello scrigno finalmente abbiamo droppato la chiave dello scrigno questa è l'unica chiave che al momento ci serve per andare avanti non non posso andare avanti perché ci vorrebbe un altro sigillo per diciamo per per gestire questa cosa ora qua io non mi ricordo effettivamente come fare perché che mi sa che non ci arrivo se non erro dovevo fare così sì esatto usciamo da questa porta ecco dove c'è un altro tesoro che qua dovrebbe crepare esatto questo è un nuovo tipo di mostro che abbiamo che non abbiamo mai visto a dire la verità all'interno del gioco porca miseria mi stavo esciottando però anche esso come gli altri mostri di questa caverna non è fortissimo infatti dopo un paio di colpi ci va giù a scrigno incolato da magia quindi utilizziamo la nostra magia unlock benissimo e apriamo sonora bullova corniola di ifrit accresce l'affinità e prudence disassembla cos'è che è spada bastarda oh la spada bastarda mi serve mi serve perché io ho già la katana devo creare una claymore sì no aspetta la spada bastarda devo unirla con un'altra spada bastarda sì sì devo unirlo con un'altra devo unire due spade bastarda per ottenere un'altra nodaci eh power palm non so dovrei già averlo power palm sì già ce l'ho ne ho due no vabbè allora non c'è bisogno comunque sì ottima la spada bastarda perché unire due spade bastarda mi permette di ottenere mi permette di ottenere per l'appunto allora aspetta questo devo fare così questo così questo uno e due credo aspettate e dai allora aspetta dovrei avere l'oggetto che mi permette di saltare più in alto ecco esatto bene a questo punto andiamo da questo lato vediamo un po' che cosa c'è oh un altro baule bello bene curiamoci perché non vorrei ricevere un altro flame sphere in faccia e perdere troppi hp ecco gaea strike livello 2 no veloce pensavo di avercela fatta stavolta bene anche questa ci è crepata malissimo anche questo scrigno vincolato da magia non me lo ricordavo bene sbloccato ambra di daijin accrisce la rinità con l'aria questa è una lama di per sé ma non mi interessa è bullshot sì che dovrebbe essere praticamente una mazza quasi leggendaria forse allora aspettate un attimo devo fare spazio qui sulle lame lo stocco lo possiamo gettare via che tanto non mi serve ah ho anche i manici full eh devo fare un po' di spazio devo fare decisamente un po' di spazio il counter guard lo possiamo togliere perché tanto ok prendiamo soltanto il bullshot che è l'unico che mi può realmente interessare benissimo andiamo da questo lato prima però mi voglio curare perché questa ovviamente è soltanto una prima esplorazione per il momento non possiamo fare chissà quali cose perché giustamente tante robe si sbloccano durante la seconda run del gioco bene utilizziamo la chiave dello scrigno e otteniamo lunaria di dao volare martello da battaglia a forma di piccone back di corbin francisco tagliente a due mani allora disassembla si perché la doppia lama è interessante tante ecco purtroppo madonna sono pieno di aggeggi allora questa la possiamo togliere e prendere la doppia lama va bene mi interessa soltanto la lama le impugnature le troveremo poi più in là ok abbiamo finito questa prima parte di esplorazione qua addirittura c'è un uno scheletro che può droppare armi a due mani vedete e se sono fortunato potrebbe droppare qualcosa di interessante uh no l'elmo d'acciaio niente peccato ci abbiamo provato perché droppare magari un'esecutrice potrebbe essere il colpaccio per me ok ma io credo di stare andando avanti così giusto un'escuto un'escuto Ok. Bene. Possiamo uscire. Ok. Benissimo. Adesso che abbiamo la chiave dello scrigno. A parte che qua possiamo sbloccare l'altra porta, visto che abbiamo ottenuto il sigillo. Ma, piano piano. Vedete qua quante porte ancora si possono sbloccare? Queste sono tutte porte che si sbloccano man mano che esploreremo tutti i dungeon. Vi ricordate? Eh già. Reagente magico. Dolce supplizio. Franziska e gendarme. Scudo torre. Lo prendo. Ma questi sinceramente non mi servono. Ok. Dovrei aprire un altro forziere. Con la chiave del... E che però forse sono troppo lontano. Perché in realtà dovrei arrivare... Dovrei arrivare qui. No. Alla plateia luminar. Sì. Vabbè. Non sono tantissimo lontano. Allora. Andiamo qua al junction point. Anche perché così posso iniziare a vedere di craftare qualcosa. Devo ottenere praticamente un'altra spada bastarda. Sì. Devo ottenere perché già... Una ce l'ho. Quindi ottenere un'altra spada bastarda mi permetterebbe di ottenere la seconda nodaci. E per ottenere la spada bastarda avere la katana è sicuramente un ottimo... Un ottimo inizio. Perché devo ottenere una esecutrice... E una claymore. Se non sbaglio. Andiamo un po'. Scimitarra. Mazza da fonte. Eh no. Eh no. Eh no. Eh no. Sì perché... La spada bastarda... Se non ricordo male... Doveva essere unita con un'altra spada bastarda. Per ottenere... Sì 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 sì. Era così. Dovevo ottenere praticamente... Una claymore. Devo ottenere. E un'esecutrice. Un'esecutrice e una claymore. Devo ottenere. Per fare la... La schiavona. Che poi successivamente devo unire con un'altra spada bastarda. Quindi... Un bel... Un bel grattacapo. Anche perché non ho possibilità di ottenere nessuna delle due. No. No no. Non ho la possibilità di ottenere nessuna delle due al momento. Allora. Eh... Vado a posare... In baule tutte le cose che non mi servono. E ci vediamo dopo. Eccoci qui. Alla plateia luminar. Oddio. Non scendere. Perché qui se vi ricordate c'era un altro scrigno. Da aprire. Con la chiave. Classe arma da cavaliere. Scude circolare. Perla d'angelo. Reagente magico. Argento. E la clondine in argento. Quindi spade in argento. Tanta roba. Adesso devo vedere effettivamente se c'era qualche altro baule da aprire con la chiave dello scrigno. Quindi mi faccio un giro e casomai ve lo faccio sapere. Eccoci qua. Ho ottenuto addirittura lo scudo tondo di Damasco. All'interno di un altro forziere da aprire con la chiave dello scrigno. Ovvero quello che si ottiene praticamente all'inizio del gioco. Dove vi è il minotauro. Che adesso diventerà minotauro zombie. E che per l'appunto vi... Diciamo vi affronterà. Non è difficile da sconfiggere. Però direi che un pochino ci sta nella sfida. Adesso faccio un altro giro per vedere se ho dimenticato qualcosa. E ci vediamo dopo. Eccoci qua di nuovo. Continuiamo l'esplorazione delle miniere di vergine S1. E ci vediamo appunto dove c'eravamo lasciati. Eccoci qua. Siamo arrivati dove avevamo sconfitto la grande viverna. Per cui continuiamo. Ecco. Bella trappola subito così. Anche perché dovremo affrontare adesso... Se non ricordo male... Un altro boss. Se non ricordo male. Devo un attimo... Ricalibrare... La mia testa. Perché devo ricordarmi effettivamente... Se era qui il boss che appunto dovremmo affrontare. Vabbè, qui la porta è stata chiusa. Non mi interessa. Un altro Mjolnir. Ottimo. Unire due Mjolnir... Mi dà tanta roba. Se non ricordo male... Unire due Mjolnir mi danno il Griever. E io, unendo due Griever, posso ottenere... Il martello finale, praticamente. Wow, ma che culo. Ecco. Trappola eruzione. Eh, vabbè, sì. Non me ne ricordavo due di fila. Figata. Allora, scendiamo. Esatto. Qui c'è l'altro boss. Il golem d'acciaio. Non dovrebbe essere fortissimo. Almeno io non lo ricordo fortissimo. Spero di... Spero di ricordarmi bene. Eh, sì, infatti. Mi ricordavo non fosse eccezionale. Eh, mi metto... Un bella forza su. Così... Ci sbrighiamo in 448. Fa veramente pochissimi danni pure, quindi... Niente di eccezionale. Gli attacchi di catena funzionano, non vi preoccupate. Morto. Direi abbastanza easy. Ora lui dovrebbe darmi un altro sigillo. Ovviamente le congratulazioni. Già 4 milioni di punti. Eh... Spectre Bane. Aumentiamo il rango MP più uno. Peccato. Ecco, sigillo colombina ed elisir dei dragoni. Quindi, ottenuto un nuovo sigillo. E tra l'altro abbiamo sbloccato la porta per andare avanti. Eh... Qui diciamo che è tutta una cosa di... Ecco. È tutta una questione di tempismo. Anche se in realtà potrei magari sfruttare... Potrei sfruttare questo. Esatto. Diciamo che... Non è obbligatorio perché ci si potrebbe arrivare con un salto, però... Però diciamo che va bene anche così alla fine. Tu mi dai la radice del vero. Eh, magia. Silence. Potrei evitare. Carissima. Ok. Meno male che ho fatto critico perché ho fatto colpo veloce. Eh... Qua, allora, se non erro devo andare da questo lato prima. Perché qua c'è un baule. Esattamente. Quindi... Utilizziamo un attimo un heal. Allora, fuatto fuori. Subito. Nooo. Ecco, veloce. Olè. Curiamoci. Non dovrebbero esserci trappole qui. Almeno io non ne ricordo. Quindi... Quindi direi che va benissimo. Eric Rosso. Ascia Bellica. Acqua Marina. Cora e Power Palm. La Cora è... Sì, praticamente l'arma finale. La lama finale delle spade. Cioè, praticamente qua si ottengono tutte... Tutte armi finali. Ok, eliminiamo uno scorpione di bronzo che non mi serve. Comunque, già che possiamo craftare... Il martello finale. Ehm... C'è la mazza pesante. La mazza finale pesante... Eh... La mazza finale... La mazza pesante finale. Porca miseria. E tanta roba. Allora qua, se non sbaglio, dovrei trovare la porta bloccata. Perché non posso sbloccarla. Esatto. Qui nel frattempo c'è... Una lama a due mani che... Non droppa niente. Peccato. E qui, praticamente, se non sbaglio, ci voleva la chiave d'oro? Hanno la chiave d'acciaio. Che ancora, purtroppo, non possiamo prendere. Per cui, devo rifare tutto il giro al contrario. Uscire. E... E una volta uscito, ovviamente, mi vado a craftare la mazza finale. Almeno... La mazza finale craftabile. E vabbè. La mazza craftabile finale. E poi, dopo, continuo l'esplorazione con, magari, le altre miniere in un'altra puntata. Quindi, io direi che, comunque, ci possiamo salutare qui. Così, nella prossima puntata, ritorneremo direttamente dal fabbro. Per poter craftare tutto ciò che ci serve. E quindi, grazie ancora per essere stati con me. E ci vediamo alla prossima.